Musica 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 Ciao a tutti, lui è lui E lei è Sofì E oggi siamo nel tag Sofì o Lui Il tema per le domande di oggi è il Natale Chissà perchè è il Natale Ah si perchè forse al momento è Pasqua Già Per chi non sapesse di cosa si tratta Abbiamo qui dei cucchiai di plastica Con attaccato un foglio con scritto Sofì o Lui Ci serviranno a rispondere alle domande che ci avete fatto Sotto l'ultimo video Che se vi siete persi trovate in descrizione Rispondendo solo con Lui o Sofì Sono confusa Vabbè comunque è Lui o Sofì Lasciateci qui sotto le domande per il prossimo tag E rimanete connessi fino alla fine per scoprire Quale sarà il... Iniziamo F2mad ci scrive Se non vi piace un regalo che vi fanno Chi dei due reagisce di fronte alla persona Che vi ha regalato quella cosa? Ma credo nessuno Sofì Ma non è vero Ma sono gentile Non mi permetterei mai di fare una cosa del genere Forse alle altre persone Ti ricordi quando ti ho regalato la borsa? Ehm... Com'è il regito? Ah la borsa Raga mi ha regalato una borsa Marrone Da nonnina Secondo Lui dovevo camminare con questa borsetta Come dovevo reggere? Ovviamente magari non l'ho fatto io Che bella borsa Ho fatto wow Wow e me l'hai sbattata in testa Non è vero L'ho preso tutto wow Bellissima borsa Però sta benissimo nel mio armadio Forse è meglio non portarla fuori Perché potrebbe prendere l'influenza La lascio dentro l'armadio Non la uso Ma non perché non mi piaccia Assolutamente Perché appunto la voglio preservare Sai dita basta Rocco Caporaso ci scrive Questo è il nostro video musicale Andate sul nostro secondo canale Perché voi ci seguite ogni dia Noi dite sempre di sì Sentite le nostre canzoni Perché saranno dei tormentoni Se seguite le nostre canzoni Sappiamo che sarete i nostri ragazzoni Wow Yoko Complimenti a te per questa bella filastrocca Ma forse non sai che anche noi scriviamo le filastrocchie Cioè io sono bravissima Allora io sono più brava di te però Inutile che dici noi scriviamo le filastrocchie Io scrivo le filastrocchie Che stai dicendo? Forse voi non sapete che per il mio compleanno Che è stato il 6 dicembre Anzi ringrazio tutti per gli auguri che mi avete fatto Abbiamo scritto delle filastrocchie Abbiamo Chi l'ha scritta prima? Io Poi tu mi hai copiato Non l'ho copiato, ho risposto L'abbiamo scritta E perchè quindi le leggiamo Ok si giusto leggiamole Perché sono divertentissime Molta modesta Però aspetta che te le ecco Dove? Ma dovevo prenderla Perché non la ricordo Sì Filastrocca per Luigi Anche se a volte abbiamo dei litigi Che con un calcio ti manderei a Parigi Perchè mi tocchi sempre capelli Non mi regali mai gioielli Giochi sempre a Clash Royale Credimi dei cretini Potresti vincere il festival Sappi che non è come sembra Per me tu non vivi nell'ombra Io non ti odio E non ti voglio male E' solo che mi devo abituare Che tutti non sono perfetti come me Purtroppo devo accettare Lui sto scherzando Sappi che tanti auguri Ti sto augurando Un bacio Lui Ricorda sempre chi comanda qui E poi Lui ha fatto la sua risposta Vai Legia Il compleanno è già passato Ma mi sento molto fortunato Ho ricevuto tanti auguri Da parenti Trotte e anche i canguri Un mondo di bene vi voglio Perchè mi riavvito sempre d'orgoglio Voglio finir questa filastrocca Così poi mi tappo la bocca Dicendo a Sofia Che sei la principessa mia Ti mando un grosso bacio Sofì Ora vado che mi scappa la pipì Cioè allora andava tutto perfettamente Quando hai detto che sono la sua principessa Poi a un certo punto Ho manzolto Ho manzolto Ho manzolto Non esce con queste frasi Che mi flasciano veramente così Vi stucco Ah smettila Sofission ci scrive Chi di voi due sbicciava il contenuto dei regali Ovviamente prima del Natale Ma non lo so sai Forse anch'io Una volta mi hai detto che non lo facevi Forse ho mentito Bugiardo Dai Io sbirciavo sempre veramente Non potevo contenere la mia curiosità Io andavo lì di notte Facevo costino un pacco Per vedere se faceva rumore Eh quello si Quello è il rumore del pacco anch'io Oppure adoravo quando erano buste E non scatole Perché così non c'era bisogno di scattarle Potevo semplicemente sbirciare dal buchetto No invece io lo odiavo quando erano buste Perché significava che dentro c'erano o pigiami o magliette Ah certo perché lui voleva sempre giocattoli immagino Ma quanti giocattoli avevi? Tantissimi Rosanna Bianco ci scrive Quando è Natale? Chi è che ascolta di voi due musiche natalizie? I No Ma quando mai? Ma quando mai? Io ascolto tutto l'anno musiche natalizie Cioè vabbè vabbè fatemene una E' bianco natal E' bianco natal A parte quella che ovviamente sai perchè hai fatto tutti gli anni delle scuole elementari a cantarla E se domani Vedi? Io non potessi Questa non è di Natale Aspetta no 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 Aspetta Jingle bell Jingle bell A parte quella All I want for Christmas is you Io aspetta ne so un'altra Le domeniche d'agosto Guardate le vecchie cazzo Io ho detto tantissime perchè lo ascolto sempre Mira Sofia No no Allora facciamo una cosa Entrambi Va bene? Si Fatto fatto 50 e 50 Alice mate ci scrive Che addobba di più la casa per il Natale? E' lui Vero Bravo Perchè io sinceramente faccio soltanto l'albero a casa mia Mettiamo qualche cosina di Natale Però niente di che Mentre lui addobba tutta la casa Anche il bagno Ci sono delle cose portate Mi dà ancora più aria natalizia tutta la casa addobbata Tu stai zitto Perchè non la addobbi tu? La addobba comandre Che inutile che fai Io adoro il Natale Sono bravissimo da addobbare Non sei tu che addobbi Si si 06 ci scrive Chi mangia di più a Natale? E beh E beh Allora io penso che Una volta l'anno Per capodanno anche Vabbè anche per Pasqua E anche per compl... Vabbè Qualche giorno l'anno Bisogna mangiare tanto Perchè si cucina tanto A me piace che mangia tanto Ok Lei invece no Cioè lei già si sanzia con gli antipassi E infatti Ma perchè anche ci sta a mangiare tanto Ma tu sei senza fondo Cioè tu riusciresti a mangiarti un divano Un letto solo perchè è Natale Ma come fai? Dove le metti le cose che mangi? Qua Eccoci arrivati al momento che aspettavate tutti Il tema per il prossimo video Luì e Sofì Tag è Youtube Esatto Quindi lasciateci qui sotto nei commenti Tutte le domande inerenti a Youtube Alla quale noi risponderemo Sofì o Luì Salutiamo tutte le persone che hanno scritto delle domande Anche se non le abbiamo potute leggere tutte Perchè ci avete permesso di realizzare questo video oggi Vi mandiamo un bacione al braccio E al prossimo video Ciao 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 Ciao